42 N.E.R.D. Ciao popoli Lega Nerd, sono a Milano all'Aereo Gravity che praticamente è l'unico simulatore in Europa di caduta libera. Siamo qui grazie a Universal Pictures perché c'è il lancio, come potete vedere, di Passengers per l'uscita home video di Passengers. Adesso ci lanceremo nel vuoto e io sto letteralmente morendo di paura quindi probabilmente questa è l'ultima volta che mi vedrete. So che alcuni di voi saranno felici ma spero che qualcuno di voi sarà anche triste. Vi farò vedere poi subito dopo tutto quello che ho fatto ovviamente. Vi faccio vedere anche com'è quest'area. Non è ancora ufficialmente aperto ma lo sarà praticamente tra pochissimo quindi poi se vorrete provare questa super esperienza vi consiglierò, se sopravviverò, di farlo oppure no. E vi ricordo l'uscita a un video di Passengers. Noi ci vediamo alla prossima e nulla, ciao! Noi ci vediamo alla prossima.